Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie di tutorial Di che cosa parleremo? Parleremo di una libreria javascript che si chiama D3JS Dove D3 sta per Data, Drive & Documents Allora, di che cosa si tratta? Innanzitutto, spesso si ha l'esigenza di mappare dei dati su elementi visivi, su elementi grafici che possono essere sia elementi HTML quindi magari dei div con delle proprietà CSS particolari oppure delle SVG che sono degli elementi particolari che andremo a vedere in qualche tutorial successivo Quindi si ha l'esigenza di effettuare il banding tra dei dati in input e degli elementi grafici in output e questo è lo scopo della libreria D3 Molte librerie grafiche, per esempio, che si occupano in javascript di creare dei chart e così via si basano proprio su questa libreria perché innanzitutto è molto molto potente è compatibile con tutto e accetta qualsiasi tipo di dato in input che può essere json, array e quant'altro addirittura file excel, possono essere convertiti tutto quello che vogliamo e permette quindi a questa libreria di manipolare il DOM di manipolare la pagina web di creare elementi grafici oppure elementi HTML modificarne le proprietà CSS e tutto questo con una semplicità d'uso eccezionale e anche in modo molto molto veloce Ad esempio, questo qui sono degli esempi che vi vengono fatti di sintassi javascript normale e sintassi D3 La prima cosa che possiamo notare ad esempio guardando questo codice è la sintassi che è fatta in questo modo quindi viene chiamato D3 che è la libreria punto metodo e poi ancora punto metodo quindi gli elementi vengono concatenati uno dopo l'altro infatti questa sintassi viene chiamata chaining syntax quindi la sintassi a catena può sembrare abbastanza magari controintuitiva però in realtà semplicemente ogni metodo restituisce un riferimento a qualcosa di appena creato oppure a qualcosa che volevamo prelevare e questo riferimento è diciamo il il selettore su cui viene chiamato il metodo successivo ok? ad esempio questo qui questo metodo select all seleziona tutti i paragrafi della pagina web e su tutti i paragrafi lui applica questo metodo quindi ad ogni paragrafo viene chiamato questo style dove andiamo a impostare il colore white ok? questo metodo per esempio style serve a modificare il CSS allora innanzitutto questa comunque è la pagina web di riferimento dove ci sono molti esempi ad esempio se cliccate qui su Instagram quindi l'istogramma ad esempio vi esce questa pagina web dove c'è anche il codice e quindi potete potete davvero dare una spulciata ci mettete giorni e giorni ma noi adesso andremo a lavorare su una nostra pagina web allora lo scheletro della pagina è questo qui abbiamo semplicemente il link alla libreria D3 niente di che il CSS l'ho messo ma non ci serve per il momento e tutto il resto è normale elementi HTML manuali non li andremo a scrivere quindi manualmente non andremo a scrivere nessun elemento HTML faremo tutto tramite D3 ad esempio vogliamo creare un paragrafo ok? per il momento noi andremo a creare questi elementi HTML senza avere dei dati da nessuna parte ma è soltanto per farvi vedere i primi metodi di base perché poi avendo confidenza con questa sintassi con questi metodi andremo a fare un mapping tra elementi e dati quindi ad esempio vogliamo inserire un paragrafo ok? la domanda che dobbiamo farci è dove inserirlo lo vogliamo inserire naturalmente all'interno del body quindi select usiamo il metodo select e passiamo body questo metodo ci restituirà il riferimento al primo elemento trovato con questo tag noi sappiamo che ce n'è soltanto uno perché di body ce n'è soltanto uno ma non può cioè non fa differenza avremmo potuto passare div avremmo potuto passare p e così via quindi ci restituirà il riferimento al primo elemento trovato ok? su questo riferimento noi andremo a chiamare quest'altro metodo append quindi appendi aggiungi p ok? questo append p ci restituirà il riferimento all'oggetto creato lui appenderà quindi creerà un paragrafo all'interno del body e ci restituirà il riferimento a questo paragrafo su questo riferimento noi andiamo a chiamare il metodo text e scriviamo nuovo paragrafo ok? questa è la base della chaining syntax ok? su un metodo chiamiamo un altro metodo e così via andando ad aggiornare notiamo che c'è un nuovo paragrafo notiamo che nel body è stato creato effettivamente questo paragrafo ok? quindi ogni riferimento è l'input del metodo successivo sostanzialmente è il selettore del metodo successivo ok quindi per il momento io direi che ci possiamo fermare qui come primo tutorial cerchiamo nel secondo tutorial di utilizzare dei dati vedremo come è possibile farlo vedremo dei metodi molto importanti all'interno di questa libreria se è tutto chiaro lasciate un bel mi piace se qualcosa non è chiaro lasciate un commento però il mi piace potete lasciarlo comunque a priori iscrivetevi al canale per non perdervi gli aggiornamenti noi ci vediamo al prossimo video grazie